La squadra è una squadra ben preparata ed è composta anche da ottime giocatrici. Inoltre abbiamo avuto una settimana di riposo dove l'abbiamo sfruttata al massimo per poter lavorare per bene in palestra senza tralasciare nessun dettaglio. Inoltre quando abbiamo giocato nel girone di andata contro di loro siamo riusciti a portarci la vittoria a casa perché abbiamo giocato in casa nostra, però per quanto riguarda questa gara di sabato sarà a casa loro e sarà più complicata perché sarà molto combattuta come partita. Ci mancano poche partite per il termine del campionato, però noi continueremo a lottare senza batterci. Inoltre siamo una squadra con delle ottime qualità e cercheremo di portare degli ottimi risultati a casa in queste ultime gare. Quest'anno ho accettato di venire al Messina Volley e tutto questo mi ha aiutato a crescere personalmente. Poi è anche il mio primo campionato in Serie C. Durante questa stagione sono riuscita a svolgere due ruoli, il centrale che è il mio primo ruolo iniziale, però poi ho iniziato a fare anche l'opposto che tuttora continuo a farlo. Inoltre sono molto contenta di partecipare, di far parte di questo gruppo e ringrazio veramente molto la società, lo staff tecnico e le mie compagne ed inoltre anche il mister Trimarchi che è l'ultimo arrivato che però ci trasmette molta sicurezza in campo e spero di continuare a lottare a fianco alle mie compagne.